Ragazzi siamo arrivati ad uno snodo fondamentale della storia del Medioevo, talmente fondamentale che noi gli storici dividono il Medioevo in alto Medioevo prima dell'anno 1000 e basso Medioevo dopo l'anno 1000. Come vedete anche dal titolo parliamo anche di rinascita dell'anno 1000. Cosa succede in questo benedetto anno 1000? Ci sono diverse cose da dire, innanzitutto che non è qualcosa che succede precisamente l'anno 1000. Certamente l'idea di essere arrivati al 1000 ha contribuito, come vi ho detto nelle lezioni precedenti, c'era un mito che circolava sempre più insistentemente alla fine del X secolo, cioè che con l'anno 1000 finisse il mondo, perché avevamo letto la Bibbia nell'Apocalisse dove c'era scritto 1000 e non più 1000. Quindi in molti effettivamente credevano che il mondo sarebbe finito nell'anno 1000. Voi immaginate coloro che sono svegliati la mattina del primo gennaio del 1000 e si sono accorti che in realtà nel mondo non era affatto finito. Voi pensate che molti addirittura si erano anche venduti i terreni, si erano guardati tutti i poveri per potersi garantire un posto in paradiso. Immaginate questi poveretti l'anno 1000 quando si sono svegliati, che cosa succedette? Ma al di là di questa cosa che comunque è un episodio limitato tra l'altro, bisogna dire che già prima dell'anno 1000 iniziavano a sentirsi gli effetti di una crescita demografica dovuto al fatto che non c'erano più le grossi epidemie. L'ultima epidemia di peste era ormai alla fine dell'VIII secolo e nel IX secolo naturalmente c'erano tutte le invasioni che avevano reso difficile la vita e anche molto incerta. Terminate le invasioni del IX secolo, come sappiamo con l'arrivo del Sacro Romano Impero Germanico, quindi della risistemazione dell'Europa portata da Ottone I, poi naturalmente visto come i normanni nel loro percorso costituirono anche esse delle entità statali solide. Quindi comunque la fine di tutto questo periodo di incertezza portò a un miglioramento della condizione di vita, non solo. Nel frattempo si innalzarono anche le temperature, come vi ho spiegato all'inizio dell'anno scolastico, ci sono dei cicli di innalzamento e abbassamento della temperatura, ormai da quando la Terra è nata, che sono più o meno lunghi circa 300 anni. Ebbene, siamo dal IX secolo in poi nel ciclo in cui la temperatura va aumentando, come del resto in questo periodo. Abbiamo finito l'ultima regressione della temperatura nel XIX secolo e adesso XX, XXI e XXII, verosimilmente la temperatura in maniera naturale comincerà a risalire. Più va bene, noi ci abbiamo anche messo il problema dell'inquinamento, quindi noi abbiamo addirittura, stiamo contribuendo a innalzare maggiormente la temperatura, quindi non è solamente una questione naturale. Comunque lasciamo perdere questi discorsi. L'innalzamento delle temperature, quindi veramente le condizioni di vita, la mancanza di epidemie, di malattie che aumentavano la mortalità, hanno portato ormai l'Europa alla vigilia dell'XI secolo ad una vera e propria esplosione demografica. molte migliaia di cittadini in più, quindi c'è una maggiore necessità di produrre beni agricoli per mangiare, per poter sfamare tutta questa popolazione in eccesso, in più. E questo non poteva che partire da un miglioramento delle tecniche agricole. La prima grande tecnica agricola che servì veramente più di ogni altra ad aumentare la produzione agricola e quindi a consentire migliori condizioni di vita e anche una migliore nutrizione nei nostri antenati del Medioevo, fu la rotazione triennale delle culture. Vi ricordate quando abbiamo parlato all'inizio dell'anno del nuovo modo di coltivare la terra che si stava sperimentando nella Curtis, ovvero un anno si veniva seminato il campo e l'altro anno veniva tenuto a riposo a Maggese, come si diceva, per rifare i nutrienti della terra. Ebbene, adesso i campi con la rotazione triennale vengono divisi in tre parti, non più in due. Una parte coltivata generalmente a cereali, che come sappiamo vengono semi-mietuti e quindi vengono raccolti in estate. Una parte invece a legumi, che invece maturano in primavera. La terza parte invece a Maggese, quindi a riposo. L'anno successivo si invertono le postazioni, quindi il terreno fatto a cereali diventa legumi, quello a legumi a Maggese e quello a Maggese a cereali. L'anno successivo, altra rotazione, il territorio, il terreno a legumi a Maggese, quello a Maggese e cereali, quello a cereali e a legumi. Questo cosa produce? Cosa comporta? Innanzitutto che la produzione era maggiore, perché era concentrata su due periodi dell'anno e non più su uno solo. E soprattutto si limitava anche l'impatto delle siccità o degli elementi calamitosi, come per esempio le grandi rate, perché i raccolti erano due, non più uno. Poi aumentava la possibilità di rendere il terreno molto più fertile e quindi aumentava automaticamente la produzione. Ma non bastò solo questa, che comunque era la tecnica principale di coltura. venne introdotto un nuovo aratro con le ruote, con il vomere, cioè la punta davanti di ferro, e con il versoio anch'esso in ferro, che migliorava la stabilità, la produttività anche dell'aratro, che poteva rivoltare la terra molto più in basso e quindi garantire una maggiore mescolanza per quanto riguarda la terra. Poi la bardatura a spalla e non più sotto il collo degli animali da Soma, che garantiva una maggiore forza, una maggiore spinta rispetto a prima. Tra l'altro poi i boi lentamente venivano anche sostituiti dai cavalli, che erano molto più veloci, molto più rapidi, e che garantivano una più rapida aratura del terreno. I cavalli cominciano ad essere ferrati, quindi potevano affrontare più facilmente le asperità del terreno, e poi c'è una riscoperta di tecnologie antiche che già i romani avevano sperimentato, cioè quella del mulino ad acqua e del mulino a vento, per aumentare la produzione di farina. Naturalmente sono tutte innovazioni che andarono, sia migliora la vita dei contadini, la produzione agricola, però attenzione, la vita dei contadini era sempre uguale, anche perché i mezzi di produzione, gli aratri, i versoi, le bardature per gli animali, i mulini, erano tutti di proprietà del signore, e i contadini comunque dovevano pagare l'affitto di queste nuove, di queste tecniche, ma anche di questi attrezzi. Quindi è vero che migliorò la produzione, però le condizioni di vita rimasero sostanzialmente le stesse, soprattutto per i contadini, insomma, che non è che potevano garantire una grande importanza della vita. Poi ci fu una vera e propria rivoluzione agricola, ci furono abbattute le foreste per migliorare, aumentare la soffizia di qualità attivabile, furono prosciugati i paludi, acquitrini, furono sottratte terre al mare in Olanda per costruire nuove territori agricoli. Viene migliorata la condizionamenta di salute, l'annotamento della spettacolare della vita, cioè nuove tecniche, nuove medicine, nuovo impulso per l'arte medica, l'incremento demografico, naturalmente, e una nuova concessione del tempo, che non era più scandito semplicemente dai ritmi dell'agricoltura, ma lentamente iniziava anche a considerare le questioni relative al commercio.